La crisi sociale sanitaria derivante da Covid certamente porta delle riflessioni che devono trovare soluzioni sia nel breve termine ma a mio parere anche nel medio e lungo termine e così come l'impatto nell'operatività delle aziende. Penso che certamente Covid ha accelerato il percorso di tutte le aziende laddove ancora non fosse così evoluto per lo smart working, ormai tante aziende si sono organizzate proprio in quella direzione, però non può essere solo lo smart working la soluzione o ciò che rimarrà nel dopo Covid. A mio parere Covid ci ha insegnato, ci deve insegnare a progettare l'attività per il futuro, a porre la comprensione che l'azienda è un sistema che si inserisce in un sistema più ampio e quindi ci si può correre di fronte ad una posizione egoica dove l'azienda pensa solo al proprio sviluppo o ecosistemica, dove l'azienda si rende conto di far parte di un sistema più ampio. Io credo che la soluzione sia proprio nell'ecosistema, nella comprensione che bisogna lavorare con un senso di competition, quindi di competere ma di collaborare perché bisogna generare frutto insieme. Ecco, credo che Covid sia veramente un'opportunità per andare in questa direzione.